E' terminato con l'udienza di oggi l'ascolto delle parti civili nel processo sul Caracchetruria per il filone della bancarotta. In aula anche la vedova di Luigino D'Angelo, il risparmiatore di civita vecchia che si tolse la vita il 28 novembre 2015 dopo aver affidato 110.000 euro in obbligazioni alla filiale locale della Bancaetruria ed il comune di Arezzo. Durante l'udienza è stato ripercorso anche quanto accaduto nel 2008 quando sempre Banca d'Italia, che allora vedeva alla guida Mario Draghi, decise di irrogare pesanti sanzioni ai sindaci e agli amministratori dell'Istituto di Credito Arettino, molti dei quali oggi sono imputati. Il processo si aggiorna all'udienza del 20 maggio prossimo quando la parola passerà alle difese. La sentenza invece è attesa per settembre.